Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Seconda mareggiata in pochi giorni, a Fano si inizia la conta dei danni 8 stranieri irregolari espulsi dalla polizia di Fano dal territorio nazionale Piantagione di cannabis scoperta dai carabinieri Urbino Alvia la raccolta di firme per istituire un referendum sul digestore anerobico A Mondolfo è stato inaugurato il nuovo campo da calcio Dopo il telegiornale in diretta su Fano TV, il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Apriamo con la seconda mareggiata che in pochi giorni ha devastato le spiagge del litorale marchigiano Noi ci soffermeremo questa sera con il prossimo servizio firmato e curato da Rino Balestra Sulla spiaggia fanese, vediamo tutti i particolari La seconda ondata della mareggiata con vento da Levante Preannunciata per il fine settimana dopo quella devastante di mercoledì scorso Ha lasciato il segno indelebile del suo passaggio su tutta la costa fanese Da Ponte Sasso fino a Gimarra Ha portato via quel che restava da portare via Ha devastato ciò che era ancora rimasto in piedi E ha aggravato le condizioni delle strutture in diversi punti della costa Nella nottata tra sabato e domenica e la stessa mattinata di domenica Con l'arenile battuto incessantemente dalle onde di oltre due metri e mezzo E con un livello del mare inalzato di oltre un metro C'era poco da stare allegri Ed infatti a mare calmo di oggi si è provveduto alle scoraggianti ricognizioni Da parte di operatori e amministratori locali Che già da ieri hanno ispezionato i luoghi più interessati dalla mareggiata Ponte Sasso, zona prima secca e isla Morada sono state le più colpite Con il mare che ha oltrepassato anche i capanni Ed erodendo fondamenta e strutture Lasciando un paesaggio di desolazione e migliaia di euro di danni dietro di sé E tutto da ricostruire Dalla parte opposta Gimarra e concessioni a nord del torrente Arzilla Il cui sottopasso è un guado a tutti gli effetti ormai E hanno visto decine e decine di metri di spiaggia sparire Assieme a migliaia di metri cubi di sabbia La frequentatissima e apprezzatissima anche turisticamente Da stranieri e forestieri spiaggia dei cani Ha visto erodere dalla furia del mare anche le fondamenta delle strutture E accusare grossi danni agli impianti e sottoservizi Che ora sono stati portati allo scoperto Gli impianti sono tutti da rivedere E le fondazioni per fortuna sono belle robuste Quindi non hanno subito, non hanno avuto problemi Invece la parte degli impianti sia idrici che elettrici Saranno completamente da rifare o comunque da controllare totalmente L'importante sarà sicuramente avere un supporto dall'amministrazione Che è comunque qua già presente ed è stata sempre fino adesso al nostro fianco Per riaprire diciamo più belli o almeno come prima È novembre, dicono i lupi di mare, il mese in cui il Levante e lo Scirocco Fanno i loro danni maggiori In cui la velocità del vento crea onde anche oltre i tre metri Come è successo in mareggiate memorabili nei decenni passati Il periodo comunque è sempre questo, ci dicono Per avere un'idea della furia del mare di questi giorni Basta recarsi all'anfiteatro Rastat Dove dalla parte del mare le canalizzazioni dell'energia elettrica e dei servizi Sono state portate allo scoperto Creando uno scalino dal piano abituale di Calpestio di oltre 60 cm E portando a vivo la fondazione Oppure lungo la massicciata della linea ferroviaria dopo la spiaggia dei Cani Il cui mare ha scoperto il basamento in cemento armato del muro E investito di acqua salata i convogli in transito in quel momento Ieri proprio mentre imperversava la burrasca Il sindaco Massimo Seri con il vice Cristian Fanesi Anche altri assessori hanno seguito dalla sala operativa della protezione civile Tutte le fasi minuto per minuto Tanto dobbiamo evidenziare che è un evento straordinario Non sono eventi che si verificano ogni anno Nella storia di questa città, di queste realtà Ci sono già stati fenomeni simili Mi ricordavano che nel 79 per esempio Agimarra aveva mangiato Aveva eroso anche parte della terrazza del chiosco bar Però al di là di questo aspetto Bisogna pensare come intervenire E soprattutto come prevenire anche fenomeni di questo tipo A cui saremo sempre chiamati maggiormente E poi va anche detto In prospettiva non nel breve ma nel lungo periodo C'è un nuovo fenomeno che è quello che il mare Adriatico si sta alzando E noi non è che possiamo far finta che queste cose non esistano Per quello che riguarda la costa della nostra città Sono fenomeni diversi con interventi di tipo diverso Qua dove ci troviamo ora c'è stato l'intervento più dannoso Dove effettivamente ha creato maggiori danni Ecco qui dovremmo ripensare un ripascimento per la prossima estate Ovviamente sperando di avere tutte le autorizzazioni dalla regione Ma bisogna anche aprire un nuovo discorso con anche Ferrovia dello Stato Perché ovviamente questo aspetto interessa anche il tratto ferroviario In quanto durante i giorni della tempesta Se così possiamo chiamarla L'acqua è arrivata fino al muro di protezione della ferrovia stessa Quindi insieme a loro che hanno anche risorse importanti Possono aiutarci a fare interventi di rinforzo qua delle scogliere Poi c'è tutta la parte di Sassonia Dove lì siamo in un percorso avviato Adesso in questa settimana dovrebbe uscire la pubblicazione del bando Per il primo intervento E a breve attendiamo alla fine di novembre Per gli ultimi passaggi anche insieme alla regione Per il finanziamento E dovremmo andare alla gara anche con l'altro intervento E quindi realizzando tutta l'opera che era stata progettata sin dall'inizio Poi c'è tutta la parte sud Dove anche lì sono stati problemi importanti Lì abbiamo altre risorse per alcuni interventi di rafforzamento C'è un progetto che stiamo avviando con la regione RFI Per altri 4 milioni nella parte sud del Metauro Quindi insomma sono previsti interventi importanti Però ecco dobbiamo essere consapevoli Che dobbiamo anche confrontarci con i fenomeni naturali Che sono sempre più forti e più incisivi Ed ora parliamo dei furti nelle abitazioni In questo periodo sono in forte aumento Gli agenti del commissariato di Fano Hanno effettuato in questo fine settimana Diversi controlli E 8 stranieri irregolari hanno ricevuto il foglio di via 8 stranieri irregolari che dimoravano nel territorio fanese Sono stati sottoposti da parte della procura di Pesururbino A procedura di espulsione dal territorio nazionale Perché risultati irregolari Il ragguardevole risultato di allontanare dalla città di Fano 8 individui senza fissa dimora È stato raggiunto grazie a numerosi servizi straordinari Effettuati dagli agenti della Polizia di Stato Del commissariato di Fano Coordinati dal dirigente Stefano Seretti Mirati al contrasto dei reati verso il patrimonio Furti in appartamento o in esercizi commerciali E dello spaccio di stupefacenti Ai quali spesso i clandestini ricorrono Come spediente per sopravvivere Gli uomini del commissariato Attraverso blizzi in casolari abbandonati O abitazioni segnalate O in luoghi abituali di consumo e spaccio di droga Hanno identificato oltre 200 persone 8 delle quali risultate irregolari Sul territorio nazionale Un russo, 4 africani Di cui 2 tunisini, un marocchino e un nigeriano E 3 rumeni rintracciati Grazie alla individuazione di un'autovettura In località Meteorilia di loro utilizzo E segnalata in diverse occasioni A seguito di furti in appartamento Le operazioni sono state eseguite in diverse occasioni Anche in coordinamento con il corpo della polizia locale fanese In zone di transito come stazioni di autobus e ferroviaria E zone di abituale incontro come i passeggi o parcheggi pubblici Strategica quindi la collaborazione dei due corpi Per meglio individuare attraverso conoscenze e presidio del territorio Le zone e le sacche di irregolarità nel territorio comunale La polizia di Pesoli invece ha arrestato Nei giorni scorsi un 34enne di origini albanesi Regolare perché convivente con la sorella Ma senza un'occupazione stabile Ed è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di cocaina Gli inquirenti erano sulle sue tracce In quanto nonostante non avesse appunto un lavoro Era un assiduo frequentatore di sale gioco Ed intestatario di due autovetture Gli agenti inizialmente lo hanno bloccato sotto la sua abitazione Trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina Per 42 grammi di peso E poi durante la perquisizione all'interno dell'appartamento A Montecchio di Vallefoglia Gli hanno rinvenuto altri 400 grammi Oltre a questi sono stati sequestrati anche telefoni cellulari E i carabinieri di Urbino hanno invece sequestrato Una intera piantagione illegale di cannabis Nella giornata di ieri domenica 17 novembre Intorno alle 16 i carabinieri della compagnia di Urbino Assieme ai colleghi delle stazioni di Pian di Meleto e Carpegna A seguito di una estesa attività investigativa Sul commercio e la detenzione di stupefacenti Hanno eseguito una perquisizione in una abitazione Sita in una zona rurale lungo la valata del Foglia Scoprendo una serra adibita alla coltivazione di piante di cannabis Ed è arrestato quindi un uomo e una donna Conviventi di età compresa tra i 40 e i 50 anni Incensurati che abitavano nella casa La serra era stata posizionata nella cantina dell'abitazione Di proprietà di uno dei due arrestati Allestita con lampade alogene, termometro, temporizzatore, igrometro e concime E tutto l'occorrente per far crescere le piante E dove ne sono state rinvenute 16 di varie altezze A seconda del loro stadio di crescita Comprese tra il metro e 70 e i due metri Le piante e tutto il materiale ritrovato nella serra E' stato posto sotto sequestro I militari inoltre durante la perquisizione Hanno rinvenuto nascosta in barattoli di vetro E già suddivisa in dosi pronte allo smercio 700 grammi di marijuana E materiale per il confezionamento Come bilancini di precisione e involucri vari Dopo l'arresto i due sono comparsi questa mattina Davanti al giudice del tribunale di Urbino Processati per direttissima A seguito del loro appatteggiamento Sono stati condannati a un anno e quattro mesi di reclusione Pena sospesa E questa mattina il comandante della compagnia Carabinieri di Urbino Il capitano Renato Puglisi Insieme a Fabio Mengucci della Polizia Municipale L'ispettore Daniele Pernafini della Polizia Stradale In occasione dell'istituzione della giornata nazionale In memoria delle vittime della strada Hanno ottenuto un incontro con gli studenti dell'istituto comprensivo Pascoli L'iniziativa ha avuto lo scopo di promuovere la cultura Ed il rispetto delle regole del codice della strada E di migliorare la sicurezza della circolazione Gli argomenti nello specifico trattati Sono stati la guida sotto l'effetto di alcol E di sostanze stupefacenti Il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza E l'uso dello smartphone alla guida E l'eccesso di velocità Il comitato che si batte contro la realizzazione Del digestore anaerobico nel Comune di Fano Ha avviato una raccolta di firme Per istituire un referendum Abbiamo costruito questo comitato Perché vogliamo capire Che intenzioni ha questa amministrazione comunale Che vuole fare questo eco-mostro a casa nostra Perché noi abitiamo in quella zona Quindi siamo molto preoccupati per quello che si fa Visto che il nostro sindaco comunque in campagna elettorale Aveva espressamente detto che non si faceva E invece ora è uscito Noi abbiamo costruito questo comitato Io mi sono documentato Perché mi batto sempre per le periferie Mi sono documentato E ho visto veramente parecchi aspetti negativi Che ne possono derivare L'amministrazione giustamente Essendo chi lo propone Dice gli aspetti positivi E noi vogliamo anche capire Quali sono gli aspetti negativi E quindi questo comitato è nato Per cercare di costruire un referendum Per far parlare anche la gente del posto Cioè la gente che è coinvolta Ha bisogno e ha voglia di dire Sì o no Se lo vuole o meno Quindi come comitato Stiamo facendo diversi incontri Dove informeremo con dei tecnici La gente E informeremo anche degli aspetti negativi Che a mio avviso sono molto superiori Rispetto agli aspetti positivi Da residenti che cosa vi preoccupa? Sono molto preoccupata Perché se fanno questo digestore anaerobico Sarà completamente tutto inquinato Rilasceranno dei gas serra E dell'ammoniaca Che insomma Lungo andare Provocherà dei cancri O deformazioni Delle nascite Quindi questa è la preoccupazione maggiore Qual è il prossimo incontro che farete? Ne faremo uno a Cucurano Mi sembra il 2 dicembre E poi a Rosciano Chiediamo di raccogliere le firme Per proporre questo referendum E poi si vedrà Più siamo E più facciamo rumore È tenuta sotto sequestro in Somalia Da un gruppo islamista Legato agli jihadisti di Al-Sabaab Silvia Romano La cooperante milanese Della ONLUS Fanese Africa Milele Rapita in Kenya il 20 novembre Dello scorso anno Da 8 uomini Nel piccolo villaggio di Chakame Poi trasferita in territorio somalo E quanto emerge dagli sviluppi Dell'indagine della Procura di Roma E dei carabinieri del ROS Coordinati dal PM Sergio Colaicco E a seguito della trasferta Di agosto E dalle documentazioni Messe a disposizione Dalle autorità cagnote Gli inquirenti Stanno valutando L'ipotesi di inviare Un'arrogatoria internazionale Alle autorità somalo E a Mondolfo invece Cambiamo completamente Argomento È stato inaugurato Il nuovo campo da calcio Inaugurazione in grande stile A Mondolfo Per il nuovo campo sportivo In via Fermi Che ospiterà le partite di calcio A 5 e di calcio A 8 Dopo i nostri servizi Sullo stato di avanzamento Dei lavori Sabato scorso Alla presenza Dei ragazzi delle scuole Delle autorità civili Militari e religiose Dell'amministrazione comunale Regione E con i marchi Taglio del nastro Della struttura Prima della mia elezione A sindaco Mi ero battuto Per la sua Riqualificazione Era anche uno Dei nostri punti All'interno Del nostro programma Amministrativo Con il quale Ci siamo candidati Nel 2016 Ricordo anche Lo scetticismo Di tanti cittadini Che anche Giustamente La consideravano Come Visti precedenti Come l'ennesima Promessa Che poi sarebbe Stata puntualmente Disattesa E invece Siamo qui L'opera Dal costo Di 300 mila euro Di cui 75 mila Ricavati dal bando Coni Regione Marche Ha visto lo scambio Simbolico Del pallone Al centrocampo Tra il sindaco Barbieri Il presidente Coni delle Marche Fabio Luna E il presidente Della regione Luca Ceriscioli Questo è uno Dei 106 progetti Che hanno avuto Finanziamento Della regione Sulla riqualificazione Gli impianti sportivi È stata una scelta Importante Quella di puntare Sullo sport Di dare la possibilità A tanti comuni E società sportive Di riqualificare I propri impianti Sono stati 7 milioni di euro Complessivi Messi a disposizione Della regione Ma che sono diventati Almeno 20 Perché ognuno Ovviamente Ha messo la parte Di cofinanziamento Una collaborazione Fra territori e regioni Di grande qualità Che restituisce Spazi rinnovati Che fanno Spesso un salto Di qualità Rispetto a quello Che erano prima Abbelliscono i territori Danno ai ragazzi Tante opportunità E possono diventare Naturali attrattori Perché con un impianto Sportivo nuovo Si possono anche Attrare tornei Attività sportive Che portano persone In giro per la regione Un campo sportivo All'avanguardia Con tutti gli accorgimenti Del caso Per permettere Così di giocare A chi ne soffrirà In totale tranquillità Un nuovo manto erboso Sintetico Spogliatoi Illuminazione a led E nuove tribune Per il pubblico Grande soddisfazione Anche del presidente Del comitato olimpico Nazionale italiano Delle Marche Fabio Luna Che ha sottolineato Come questa struttura Non sia solo Un campo qualsiasi Ma un punto di ritrovo Per tutta la comunità Siamo riusciti A sensibilizzare La regione A investire Nell'impiantistica sportiva E dopo oltre 20 anni La regione Ha investito Oltre 6 milioni Di euro Per poter far sì Che i nostri impianti Siano sempre più idoni Alla pratica sportiva Ma soprattutto Siano sempre anche Più sicuri Per poter ospitare I nostri ragazzi In ambienti sani Ma torno a ripetere E sicuri che ha la base Di tutto Il servizio Con queste belle immagini Era di Filippo Pucci Adesso invece Andiamo a Pesaro Perché ci sono altre immagini Davvero particolari Davvero suggestive Immagini che riguardano Un daino Un daino Che è stato Immortalato Per le vie del centro Qui siamo in Via Via Branca Il video è diventato Subito virale Ed è stato postato Nella pagina Facebook Del sindaco Matteo Ricci È stato girato La scorsa notte Da un netturbino Che Sorpreso Dalla vista Dell'animale Ha pensato bene Di Firmare E filmare Questo Momento Dopo la segnalazione Ovviamente Sono state allertate Anche le guardie Zoofile Peccato Non ci fosse Già l'illuminazione Natalizia Perché Con un po' di neve Sarebbe stato davvero Un paesaggio Straordinario E adesso Andiamo invece A vedere Lo sport Con le notizie Curate Raccolte Da Matteo Del Vecchio Piove sul bagnato In casa Alma Juventus Ma il meteo Non c'entra La sesta sconfitta Consecutiva Subita ieri Per mano del Piacenza Ha fatto scattare La rabbia dei tifosi Che chiedono le dimissioni Di dirigenza E allenatore E minacciano Uno sciopero Ad oltranza Il 4-2 interno Maturato ieri È frutto Della maggiore esperienza Degli ospiti Capaci di sfruttare Le occasioni create A differenza del Fano Che ci mette tanta grinta Ma i cui limiti Appaiono evidenti Piacenza avanti Già il quinto minuto Con Corradi Gol pareggiato Al ventisettesimo Da Canis Con un tiro Dalla distanza Nemmeno il tempo Di esultare però Che il Fano Rimane in dieci Per il secondo giallo Rimediato da Ricciardi E in avvio di ripresa L'1-2 Piacentino Taglia le gambe E Granata Che tra il settimo E l'undicesimo Subiscono altre due reti Al sedicesimo Parlati Riaccende la fiammela Della speranza Spenta al ventottesimo Da Paponi Che segna la rete Del definitivo 2-4 Che lascia il Fano In fondo alla classifica A meno 4 Dalla zona salvezza E con lo spettro Di giocare Le prossime sfide Senza l'apporto Dei tifosi Elemento Che andrebbe Ulteriormente A complicare Una situazione Già di suo difficile E domenica Per la sedicesima giornata Di Lega Pro Si va a Vicenza Squadra prima in classifica E reduce Da 5 vittorie Nelle ultime 6 partite Weekend nero Anche nel calcio a 5 La buldo Glucrezia Nella sfida valida Per l'ottava giornata Di Serie A2 Perde in casa 3-2 Contro il Fuzz Alcoba Uscendo dal campo Comunque a testa alta Al cospetto Di una formazione In lotta Per salire di categoria Di Napoletano E Bukovic I gol dei padroni di casa Che con questa sconfitta Restano a due punti Di vantaggio Sulla zona play-out Sono tre invece Le lunghezze Che separano Eta-beta Dalla zona pericolosa Della classifica Di Serie B E la sconfitta Di sabato Sul campo Del miti vicinalis Lascia tanto amaro In bocca Visto che l'avversario Non è apparso Irresistibile Dopo l'1-1 Del primo tempo I padroni di casa Nella ripresa Ci mettono Quel qualcosa in più Portandosi subito Sul 3-1 E la reazione fanese Con i gol di Bei E Copparoni È solo un'illusione Visto che nel finale La squadra trevigiana Allunga Chiudendo sul 5-3 Vittoria al cardiopalme Invece per la G-Ban Virtus Nel campionato di A3 di volley Dopo aver dominato Per due set I Virtussini Perdono il terzo parziale E inseguono Per buona parte Del quarto Prima di trovare Il guizzo di orgoglio Necessario per recuperare Lucidità E chiudere sul 3-1 Contro i Bolzanini Del Mosca Bruno Fondamentale come sempre L'apporto del pubblico Che spinge la G-Ban Ad una vittoria Che la fa salire Nove punti In una posizione Di classifica Che fa sognare Il popolo bianco-rosso E sogna Anche il fano rugby Che nel campionato di C1 Centra la quarta vittoria In altrettante gare Accarezzando quel sogno Play-off Che nelle ultime stagioni Era sfuggito Per un soffio Al Falcone Borsellino Finisce 44-20 Contro la polisportiva Bruzzo Con due mete di Matteo Goffi E i sigilli di Stefano Rossolini Matteo Fulvio Golini Nicola Cadeddu Roberto Giovannelli Marco Sanguinetti E Luca Madori Bene Il telegiornale finisce qui Restate con noi Il tempo della pubblicità Le previsioni del tempo E subito dopo In diretta Su questa scrivania Siederanno Simona Zonghetti Alla conduzione Con il suo ospite Il sindaco Di Fermignano Emanuele Feduzzi Questi sono i numeri Per Mettersi in contatto Con il primo cittadino Io mi fermo qui Grazie Per averci seguito Ci vediamo domani mattina Alle 7 Con la rassegna stampa In diretta Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.